Musica Ditemi se almeno una volta Non avete desiderato Di fare questa cosa Ditemelo, scrivetelo sotto i commenti E ciao a tutti ragazzi Sono Lorenzo E benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo ritornati come Ogni domenica sul Che video e dopo che appunto Spotify ha tolto tutte le Cracche ai cellulari quindi Non possiamo più ascoltare Spotify Se non paghiamo 10 euro Grazie Spotify Però questo ragazzi sarà Un che video è triste perché questo È l'ultimo che video è Che avrà il tormentone Tutta colpa della fast web Perché Ragazzi sarà l'ultimo video Caricato con questa fast web E come ho detto nel vlog Con chi sarà andato Bene Ve lo svelo A breve ragazzi Non sarà tutta colpa Della fast web Ma sarà TUTTA COLPA DELLA Vodafone Comunque ragazzi mi raccomando Se volete il prossimo episodio del che video è Entro la prossima domenica Cerchiamo di raggiungere i 3000 like Però su via Bando alle ciance Vediamo i video che mi avete inviato questa settimana Iniziamo Incredibilmente lo scorso episodio del che video è È stato il numero 50 Ne devo fare molto di più Lo so Comunque ragazzi andiamo a vedere i commenti Che mi avete mandato Ovviamente Prima dai più popolari E poi dai più recente E ragazzi Vedo che il primo video Che hai ricevuto addirittura 21 like Me l'ha inviato Filippo Gorretti Gorretti Scusami Lorenzo Sen Guardi Questo video Le caramelle al limone Ti faranno cose brutte Tipo nasconderti La carta di Freddy Nel bagno Mi dispiace Ma le caramelle al limone Le ho date al mio cane Purtroppo il mio cane è vomitato Il problema è che non ho un cane Quindi L'ho presa io E ho vomitato io Vediamo il video No No Scherzo finito male Panna in faccia a mia madre Leggete la descrizione Vabbè Vediamo il video Quando mia madre E ho deciso di farvi uno scherzo Vi servirà la panna E un piatto Mettete Non faccio l'entro Perché sta per arrivare Vado a prendere la panna Quindi ragazzi Mi raccomando Ingredienti Panna E piatto Preferibilmente di plastica Perché se no Spaccate il piatto in faccia Ok ragazzi Ci siamo Quindi Vediamo come andrà a finire Te lo dico io Come andrà a finire Ammazzate Se spegnessi la luce E lo chiedi a me È un video Non è una live Non posso interagire E poi quel che cavolo ti pare Ragazzi io so già Che andrà a finire male Perché mia mamma Odia gli scherzi E sto rischiando molto Ma questo lo fa Lo sa per dire Lo sa per dire Faccio per voi ragazzi L'ha detto L'ha detto No 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 Spray Spray L'ha detto Spray E bo che facciamo Ragazzi non lo so guardare Ragazzi non lo so guardare Non lo so guardare Non lo so Ho visto la cosa più epica Di tutta YouTube Italia Oh mio dio cos'era Ok ti ringrazio Davvero ti ringrazio Signor Goretti E direi di passare al prossimo video Il prossimo video di questo che video è Me lo manda Angaro Angaro E mi dice raga Guardalo Ma preparati Questo video cambierà la tua vita per sempre Il video si chiama Ciao Ci stava Vediamolo Vediamo Ciao Drake Ciao Angaro Bravo 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 Miglior video di YouTube Italia dell'anno Bravo Bravo 92 minuti di applausi Ti ringrazio tantissimo Angaro Per questo video E passiamo al prossimo Che vedo uno Shaggy Ultra Instinct E io volevo vederlo Scusate un attimo Non mi fate rivedere sta scena Da quando Shaggy È diventato Ultra Instinct Ultra Instinct Shaggy Cos'è successo al mondo oggi? Ma oggi è una giornata spettacolare Oggi è una giornata che dovremmo ricordare tutti Oggi dovrebbe diventare festa nazionale Ma che dico nazionale? È europea Ehi vabbè Ehi vabbè Ehi vabbè 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 Ehi vabbè Vabbè Va bene Basta basta Passiamo al prossimo video Ehi Date 007 Scrive Ultimo Lo metto subito Ci sarà Il ballo delle incertezze Ci sarà Un posto in cui perdo tutto Che Ah non intendevi Lù Va bene Il prossimo video di questo video E me lo manda Vincenzo Taormina Che mi scrive Guarda L.O Ovviamente guarda L.O E noi guardiamolo Freddure Oddio Oddio Questo video presenterà Failspalm Scusatemi Sono pronto Sono pronto Non puoi giocare a carte Con un becchino Perché bara Peggio di quando un barese Dice un barese Tu bari Andiamo avanti Forza fate in fretta Che tra poco Un bat Tesimo Doppio Facepalm Bufala Bill Ma io che ho fatto Nella mia vita Ma dico io Che ho fatto Nella mia vita Per meritarmi Questo Ve lo dico Riesco a reggere Solo altri due Freezer E butto via il video Il cioccolato si ottiene dal cacao Che viene da un albero Quindi in sostanza Il cioccolato Conta come verdura Fine della discussione Solo che Ti faccio una piccola lezione Se viene da un albero Non può essere mai una verdura Ma è un frutto L'albero Fa i frutti L'albero Fa i frutti Non fa le verdure L'albero Fa i frutti Non fa le verdure L'albero Fa i frutti Non fa le verdure Va bene Ti dico ciao Ti banno dal canale Dopo queste freddure Tanto lo so che adesso Tutti mi iscriverete freddure E ragazzi Passiamo al prossimo video Il prossimo video Di questo Che video è Anzi Altri due video Di questo che video è Me li manda ComicSense89 Che mi manda Il primo video Subito dicendo Fai subito la reaction A questo video Va bene Farò la reaction A questo video E facciamo la reaction A questo video No 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 Il primo episodio Di infermario Tipo quando l'ho fatto Le due video Quattro anni fa No lo devo vedere Mamma mia quanto tempo Sono pronto eh Sono prontissimo Cacchio Mario ma tu esistevi dal 2014 Ammazza quanto si vecchio Si però ragà Non lo sai immaginare Quando mi incacchiamo E vai con la prima morte Ah la prendevo bene Così La prendevo benissimo Appena morivo E il prossimo video ragazzi Di questo che video è Me lo manda Michael Salvini Lore Guarda questo video Se no Fred e Foxy Ti faranno cose con te Big Duel E che è No 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 E non mi dire che ce ne sono altre distropi Dice Come facendo para todo lo bailatore Con questo ruolo che dice Hey 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 Bello 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 Mi piace così Ma sono Ma sono troppo belli Sti video così Vi prego Bellissimi Vediamo questo Cioè Me ne posso vedere a bizzef Blackmore Can we go through shopping? Blackmore Non l'ho capito Questa Questa Non l'ho capita Va bene lo stesso Va bene Ti ringrazio tantissimo Regà Io direi Di andare a vedere Invece i video più recenti Passiamo appunto I video più recenti Il prossimo video di questo Che video è Non che forse L'ultimo Me lo manda Riccardo Ramaiola Che mi invia solo il link Lasciando un alone di mistero Che solo Gesù può svelare Facciamo pure io Posso svelare Vediamo The games Sì Yes Ma quello è il pop Ma questo è fin off Comunque È strano che non c'è la parte cantata Quindi andiamo a vedere il video originale A sto punto Prontissimo per il video originale È già così È tutta un'altra storia Raga Già poi Così è tutta un'altra storia Vai Oh mio dio Bellissimo Cap è giuffonato Una roba Assurda No Troppo bello Troppo bello Troppo bello Troppo bello Arriviamo al troppo Arriviamo al troppo Arriviamo al troppo Forza Sì No 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 Fermi tutti Stavolta Da games Ha dato il meglio di sé Porca miseria Quanto è figo Raga Niente Io direi che con questo video Posso terminare Il che video è di oggi E ragazzi Mi raccomando Se non siete ancora iscritti Al canale Che cosa aspettate Iscrivetevi immediatamente Mandatemi i vostri video Sotto in commenti Seguitemi sia su Facebook Che su Instagram E noi Ci rivediamo Nel prossimo video E Ciao 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 Grazie a tutti.